salve a tutti sono qui per presentare il videocorso sull'altezza minima interna degli appartamenti di 270 riguarda il frequente caso in cui nel verificare i requisiti di agibilità di un immobile soprattutto quelli a uso residenziali si verifica che l'altezza interna non corrisponde al minimo previsto da alcune normative e in particolare ai famigerati 2,70 poi è chiaro che la questione dei seminterrati e soprattutto lombardia o dei sottotretti in alcune regioni è una questione a parte in questo videocorso affrontiamo i punti salienti relative alla alla questione e facendo anche riferimento ai casi giurisprudenziali alla questione delle parziali difformità che alle tolleranze e acquista pure il videocorso che contiene un contenere due slide e ha una durata di un'ora e 45 in cui sintetizzo la gli aspetti normativi e anche gli aspetti relativi al risparmio energetico e alle tecniche costruttive che in qualche modo riguardano la realizzazione in conformità soprattutto nel rispetto delle altezze minime previste dalle norme con questo è tutto e aspetto anche il tuo feedback se acquisterà il videocorso un saluto